Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Quella dei furti ormai in Alta Erpinia è una vera e propria emergenza, dal territorio sono varie le reazioni, in alcuni comuni si inizia a parlare addirittura di ronde notturne, per alcuni amministratori invece non bisogna creare un allarmismo spropositato, ma puntare tutto sulla prevenzione ed in gran parte sulla videosorveglianza. È il caso di Mimma Gallo, vice sindaco di Lioni, che analizza la situazione auspicando che l'Alta Erpinia, con i dovuti accorgimenti, possa continuare ad essere un'isola felice. Il territorio del comune di Lioni ha circa il 70% di zone sottoposte a videosorveglianza, questo poi, unito anche con la possibilità di avere un buon rapporto con le forze dell'Urdine e anche con gli organi di polizia municipale, ci permette di poter stare tranquilli. È ovvio che rispetto alla tranquillità, quando poi si verificano degli episodi che sconvolgono per quel momento la situazione, occorre prendere ulteriori provvedimenti. Questi provvedimenti possono essere anche un inasprimento del controllo, sempre però attraverso le strumentazioni che si hanno a disposizione. Credo molto nella possibilità della prevenzione e anche nel fatto di dover sensibilizzare la collettività in questo senso. Una collettività che è molto attenta e che ci fa pensare che comunque il territorio erpino può continuare ad avere una valorizzazione esemplare rispetto a tanti altri territori. Ovviamente il lavoro maggiore deve essere fatto da parte delle amministrazioni e credo che l'importante sarà anche creare una sinergia con i paesi limitrofi per poter evidenziare delle situazioni che hanno bisogno di un'attenzione maggiore e quindi a questo punto anche realizzare delle soluzioni operative che ci permettono di poter stare ancora più tranquilli rispetto a una realtà che viviamo in maniera abbastanza serena.